Una puntata di Polifemo particolare in cui vogliamo conoscere una realtà del territorio tarantino e non solo, lo Ionian Shipping Consortium, un consorzio di agenzie marittime, una realtà che davvero sta facendo crescere l'area ionica. E ho il piacere di avere al mio fianco il Capitano Luigi Guida che appunto è il Presidente. Partiamo innanzitutto dalla presentazione di questo consorzio, di questa agenzia marittima. Com'è nata? Perché è nata? Sì, ti ringrazio Luigi. Ci diamo del tu perché sarebbe un'ipocrisia. Totale, assolutamente. Sì, hai dato molti spunti di riflessione sull'introduzione che hai fatto, soprattutto il fatto che realmente quello della navigazione, quello del trasporto marittimo è probabilmente il paradigmatico mercato globale perché il trasporto internazionale delle navi mette in contatto con tutto il mondo sistematicamente il mercato e il mondo, il più grande mercato in assoluto. Taranto è uno dei porti più importanti da questo punto di vista perché è lo scalo naturale di quelle che sono le merci strategiche che sono l'acciaio, il petrolio, il cemento. Quindi una concentrazione così importante di traffici al porto di Taranto necessitava di servizi, necessita ancora adesso di servizi che negli anni, nei secoli ormai praticamente possiamo parlare, è sempre stato slegato. Quindi ognuno coltivava il proprio orticello. Poi purtroppo abbiamo conosciuto un periodo che odio e amo definire di colonizzazione. Anche perché, perdonami Luigi, purtroppo questa città su vari fronti è divisa ci sono molte gelosie, divisioni, ma in vari ambiti non solo nella politica, anche nell'associazionismo, in tutto grazie a Dio questa è una realtà che ha saputo non dividere ma unire. E' proprio per questo perché nasce l'idea di unire quelle che sono le professionalità marittime del territorio perché la maggior parte dei nostri soci siamo quasi tutti coetanei quindi è un'età relativamente giovane con aziende che hanno anche più di un secolo di vita però si sono tramandate di generazioni, quindi sono tradizioni familiari poi abbiamo anche la figura del Cavaliero Valentino Generilli che è il decano degli agenti marittimi che è il nostro presidente onorario che ci onora. La persona che conosco e che ama Taranto più della sua vita. Esattamente, proprio in un altro punto di vista importante quello che mi hai dato come spunto di riflessione è il fatto che la nostra professionalità spesso e volentieri è acquisita all'estero per potermi spendere professionalmente ho dovuto perfezionare o iniziare la mia formazione sia in Italia ma fuori Taranto che all'estero, in Nord Europa, in Medio Oriente acquisire quelle esperienze, i modelli acquisire il modello di esperienza da voler spendere a Taranto quella è la cosa importante allora ci siamo incontrati ed era un'idea che ormai andava avanti da anni noi ci siamo sempre considerati colleghi non ci siamo mai considerati concorrenti e un giorno abbiamo deciso di unire questo sodalizio informale, amichevole in un sodalizio formale e quindi lavorare insieme infatti il nostro motto il nostro hashtag diremmo adesso è insieme e insieme abbiamo capito che realmente si possono raggiungere dei risultati che fino a pochissimi anni fa erano totalmente impensabili grazie a tutti grazie a tutti